Inseguimenti, tentativi di fuga, macchine speronate, colpi di pistola in aria, scene da film ieri sera a San Giorgio di Gioiosa Marea, dove un ventenne residente nell'Interland di Milano è stato arrestato con diverse pesanti accuse. Il giovane, alla guida di una Porsche Carrera 911, non si è fermato all'alto in posto dei carabinieri ad un posto di blocco sulla statale 113 in contrada Cicero, intorno alle 2.30 del mattino. La folle corsa del bolide si è fermata davanti alla discoteca Lapineta, dove è stato raggiunto dei carabinieri. Ma Emanuele Fausto Errante, questo è il nome del giovane alla guida della Porsche, ha provato a forzare ancora una volta il blocco dei militari, innestando la marcia indietro. Nella sua rocambolesca fuga verso San Giorgio ha tra l'altro investito ben 13 auto che si trovavano parcheggiate ai lati della strada. I carabinieri, inoltre per intimorire il giovane ed avvisare del pericolo le numerose persone che si avviavano verso la discoteca, hanno sparato diversi colpi di pistola in aria. Sul piccolo ponte che si trova all'ingresso della frazione di Gioio Samarea, la Porsche ha tamponato un'auto ed è stata quindi raggiunta dai carabinieri. Sceso dalla macchina in evidente stato confusionale, Errante ha inoltre aggredito i carabinieri che, dopo una breve colluttazione, lo hanno immobilizzato. Condotto per accertamenti all'ospedale Barone Romeo, il giovane Lombardo è risultato positivo ai cannabinoidi ed è stato quindi arrestato con l'accusa di violenza, resistenza pubblico ufficiale e lesione personale, denunciato anche in stato di libertà per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il processo per direttissima si terrà nelle prossime ore.